ce l'avevi scritto su m che obiettivi ragazzi ci troviamo qua con un nuovo video insieme al nostro matt sd noto come ho le amate tv ormai sarebbe sempre il nostro polli matti tv vado a collarmi sto video ogni volta parlaci di te cosa fai nella vita bevo e mi incazzo facciamo subito questo contrattino qua veloce veloce allora se trovi una mod una torretta robot dalla me per favore che devo fare dalla me basta non devo fare la sfida però dalla me mi ricordo ancora come giorgio sto cecchino il giocatore più coraggioso di si dobbiamo ammazzare il mimic eh eh auguri quel bersaglio è vicino spero lo vediate chi la che veda lui infatti ho preso ho preso l'altro e non va l'attacco posto non capisco perchè quindi ragazzi niente cam perchè no cam non va l'hai fatto l'hai fatto ma cazzo hai fatto con lo sniper trovami una secondaria per favore eehh dici come che fosse facile piati ehm piati questa se vieni qua ti da la possibilità di equipaggiare due piastre grazie 3 casse forti Ok quindi dobbiamo fare un po' di piccioli Tu premi a me e guardi le sfide che hai E le facciamo Cosa? Ah no, cos'è che devo premere? Ah no, non sei da pad vero? No, sì sono da pad Cioè sì sei da pad, però è quello che fai per la mappa Ok, riparo una gomma Uccidi i 30 zombie, l'ho fatto, riparo una gomma dei veicoli Ok, allora devi rompere una gomma, avvicinarti e premere il tasto per riparare Che non so qual è il tuo fatto Vabbè lo trovo Cioè è un qualunque veicolo, non è difficile Vado di qua e lo trovo Ah io nel frattempo in tutta scioltezza sto distruggendo un nido da solo Cioè cioè vai 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 tranquillo Vai tranquillo il cazzo Io da solo qua Pensavo c'era qualcuno Ah boh, vado ammazzare il nemic Comunque quando noi completiamo una missione In teoria ci dovrebbe dare Dovrebbero trovare a terra qualche arma Che tu vuoi dare come secondare Siamo noi insieme ad un altro team addirittura E' bene, comprare un'arma Che ho fatto? Ho fatto Ok, ecco Allacate 15, quanta Ok 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 E questo è easy Ok 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 Se qualcuno di voi si sta chiedendo Dove ho imparato a usare il mitraglione Te l'ho insegnato Ma Su colpo All'istante Ma qua c'è una Ti ho preso un autoress Quello te lo do Arrivo Dobbiamo restare allerta se vogliamo spuntarla Eh ti sto cercando un'arma Ah posto, sono posto, sono posto ad armi Ho fatto l'altra missione Ne ho acquistato una Ora dobbiamo trovare un negozio Dove cazzo sono i negozi Stazione di acquisto Andiamo a un negozio Gattonando come dei gattini gattonosi Avvicino al negozio Avvicino al negozio c'è anche un veicolo Ah io vado a prendere la ricompensa Ok Tanto c'ho l'arma Col pacca panciato Tutto a posto Tesserino Roccaforte Ho il tesserino Della Roccaforte Allora dobbiamo assaltare Dentro c'è un edificio di termino scarico fino all'orlo Praticamente è pronto da rubare Dipendimi un attimo Mi guardo la mappa Dove cazzo sono le Roccaforte Di là ci sono gli zombie di livello 2 Non come neanche per i coglioni Elicottero di Terminus in arrivo Che cazzo sono i Roccaforti qua Ma dove cazzo sono Ando all'altra parte della nave Oh cazzo Roccaforte Dobbiamo andare là Mi senti? Ma te? Sì sì Dove? A 700 metri Hai l'autorush? Sì tieni Troppa Marco un'autorianimazione Ah ti ho preso Tiene anche questo Te lo metti sull'arma Te la potenzia Cosa faccio? Eh Devi fare USA No Non mi ha dato un cazzo No praticamente Quando tu spari ai nemici Loro diventano alleati Dopo un E che mi spara? Ah Fanta è qua Ok Tu sparano Sti stronzi Ho detto che questi qua Sono Vieni qua c'è una gomma da riparare Così fai la sfida Ho fatto ho fatto ho fatto Eh vabbè riparare anche questa Allora Sì ce ne andiamo Avete Riparato Ciacchino Ok Stati che ce ne andiamo Vai Eh guarda cosa devi fare Che completiamo anche le tue sfide Uccidi Devo uccidere 50 zombie con sta arma qua Con un'arma qualunque Con questa che ho preso Ah ok e poi? E poi me ne da altre Ah ok va bene Vabbè easy A fare 50 Cambio caricatore Facciamo il cambio mezzo Mazzu Ah intanto Ho conosco un po' di zombie Cazzo ho finito i colpi Wow Preparatevi al ringagio o evitatela Eh ah ci sono i colpi qua da prender Viene Deposito di munizioni qui Sto ricaricando Vai 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 E basta qua dobbiamo Dentro di qua dentro ammazzare tutto Vai Noo pa porco Sto ricaricando Dovevo aprire io la cassaforte Non sto coglione Noo pa porco Sto ricaricando Sto ricaricando Devo uccidere zombie Ti guardo le spalle Eh non me l'ha data infatti C'è la piastra 3 Sacca di corazze qui Doveva Ogni mandante di termine Si eliminato E una vittoria Dentro Si dentro Ma no comunque me l'ha data Me l'ha data Me l'ha data anche io Che me l'ha data L'ha tutto apposto Cerchiamo la prossima Cazzo suona di zombie Vabbè che il chio Vado in giro Ad avanzare sti Sti zombie Intanto Adesso no Ok Cioè non ci sono più locaforte Mi devo incazzare Procurate al mio team Un campione della creatura Che ho marcato Sangue e ossa Vedete voi Vabbè non ci sono più locaforte Una madonna troia Vabbè non ci sono Rocaforte E l'ho finito L'angio tutte fatte Eh Niente Se me ne mancava otto Possibile che non ci sia una zombie Che braccata è in zona Roccaforte Ne vita Magna All'istante C'è un veicolo con la torretta Guarda è un pack a punch Assolutamente Andiamo E copro le spalle Fingalo sopra Zuuuubido Aaaaaah Se fosse una uscita Si stai su la torretta Puoi anche sparare dalla torre No no mi interessa Mi interessa il pack a punch E poi cd E' ok 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 Dico apro le spalle Merci Eh, dove andiamo ora? Qua la roccaforte infestata La roccaforte nemica marcata Guarda dove cazzo mi spara, dal tetto Ti porto le spalle Ma ti hai mai sparato con una di queste torrette qua? Si, dal calibro 50 si Ma che soddisfazione dà sparare con questa ropa qua Tanta roba Ma che soddisfazione è? Tu fuori il mimic Mi serve un aiuto Ma come sai io sono in macchina col tipo Eh ma ho pingato qua Arrivo Easy da solo adesso Si Sto arrivando Più veloce che posso Perché il tipo Mi ha fatto la finta il tipo che veniva Che andava dove volevo io ma non c'è andato Scappo scappo Eh devo scappare veramente Arrivo arrivo Vieni qua vieni qua Ma che cazzo è? Dove sali? Ecco qua Ecco qua Devo distruggere dei cisti E dove sono? Eh sui muri E' una da qualche parte Che non trovo Cambio caricatore Guarda dove ti compro le spalle Posto Faccio un Vector su voi Questo non è male E lo mettiamo al posto di questo Ma il Vector è già potenziato C'è lo Striker Ah qua c'è questa cosa qui Se la usi sull'arma Te la potenziali Qua Faccio un altro di questi Questa che guarda Che fa sempre bene Qua c'è questo che fa sempre bene Qua c'è una sentex Non mi interessa Nelle roccaforti Non c'è nulla Dobbiamo cercare una roccaforte Dentro la zona 2 Però nella zona 2 Ci servono altri 10.000 per te Dobbiamo andare qua A ammazzare tutti Però ci servono altri 10.000 per te Per farti il pack a punch A livello 2 Punti doppi Il pack a punch a livello 2 Cosa me ne faccio? Beh perché Per andare nella zona 2 Vabbè quindi? E fra La gente è più forte Quindi ti serve il potenzialmente No A me servono Da ammazzare zombie Forse qui c'è un nemico Allora Anche questi zombie qua sono due colpi, non ti sapeva il paga-brunch o il tuo giro Corazza qui! Guarda ti copio! Cuidado! State per raggiungere il bersaglio! Ve la farà sudare più nel fondo! Buttati da qua che se prendiamo il pack a panci di livello 2 siamo a posto Il nostro amico sta fightando qua Ah! Pops! Abbiamo anche la copertura della torretta Che un po' ci aiuta Un po' di merda! Ricarico! Eh, allora, pack a pancia? Eh, ti servono altri 2.000, devi averne 10.000 Eh, devo... Ammazzare! Ammazzare! Sì, io però me lo prendo tanto C'è, c'è. Ah, ok, li vedo 1 Ok Qua, roccaforte dei nazionali Ma ce li ha, ce li ha, ce li ha, ce li ha, ce li ha Ce li ha, ce li ha È dentro o il pack a pancia o sopra? È sopra, sopra, sopra Eh, ci si è rampica da qualche lato qua E devi fare un po' di parkour Guarda Per il parkour salire... Guarda da qua, salti No, salti qua E poi da qua salti così E poi? Poi? Poi fai qua Eh, comunque devo mostrarne altri 24 con il fucile a livello 1 Vieni qua, piano piano lo facciamo, vieni Stiamo andando proprio nella zona 2 Lo è pieno, guarda Vado qui Movimenti Ah, tu li dovevi ammazzare col pack a pancia a livello 1 Eh Ah, cazzo, perché non mi hai detto Eh, vabbè, vabbè Qualche modo faccio No, vieni qua, facciamo al volo sta missione qua E poi andiamo Che che dobbiamo fare? Mazzare tutti i zombie che sono qua Ma entriamo? Io sono entratto, proprio avvio Ma distrugiamo? Mmm, è giusto, è giusto, devi distrugare Unificato Guarda Unificato Sto inviando le coordinate di una creatura del mio elenco dei clienti problematici Fatela fuori Che cazzo è sta cosa? Ti guardo le spalle C'erano due laceranti fuori Eh, porca troia Beh, uno è il nostro amico ora What? Uno è il nostro amico Sì, sì L'ho ammazzato Eh, l'ho ammazzato il nostro amico Proprio, dobbiamo fare in modo di entrare qua Guarda dove spari Guarda dove spari Ma no cazzo però Mi serve È giusto, devo comprare Stasione di acquisto qui La cosop Sano non combiniamo un cazzo Devo comprare un altro tesserino per la cassaforte Un altro tesserino della... se no non combiniamo un cazzo Può anche rimanere la... Se vuoi Poi appena facciamo la cassaforte e torniamo nella zona 1 e ti potenzio l'altra arma al pacca panciuno così puoi fare la sfida Tesserino roccaforte Beh intanto ne sto facendo un po' eh Eh ma non per la sfida Sì 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 Per la sfida Eh sì Basta avere l'arma a livello 1 allo sniper Ah quindi ce ne hai due col pacca panci te Sì Uno a livello 2 e uno a livello 1 Sì Me ne mancano ancora... 16 Fra dobbiamo entrare qua dentro e ammazzare tutti La forte nemica a marcare La è pericoloso Sì Ehm... I tipi non sono forti dal buttare giù Le ho studiate? Cavolo! Ho dato loro dei nomi?! Quella sulla vostra mappa tattica ha una taglia sulla tecna Ah, è mezzo Nari Per nostra fortuna non sono infiniti Ok No, ce ne dovrebbe essere qualcuno qua su Andiamo alla porta Ok, qua su ce ne sono altri Fatto Ok Non c'ho la cassaforte Niente bro, questo dobbiamo solo ammazzare Per uccidere tutto ciò che è Questo è un inimic Guarda Ci sono delle piastre per te alla figura Ah ne ho ne ho Eh ma fattele Ecco però io qua Tu curati Cazzo 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 Ok, lo saccheggiato Pieti questo Intanto Qui c'è un oggetto Cambio caricatore Un circuito per la torretta Qua c'è un holger potenziato Dieti anche Questo circuito torretta qua Servono come il pane Faccio Niente Te li sei tenuti Attivi le torrette Attivi le torrette Attivi le torrette in giro e Insomma sei più forte No No Non lo uso Devo fare Ok Allora adesso Io faccio Ok Dobbiamo farne un'altra Però stavolta mi devi lasciare A me tutti i nemici Altrimenti non completo lo sfido Quindi io Vuoi che esco dalla zona Che cazzo faccio? Mi aiuti Cioè stai di là Attento che non muoio Se muoio mi rientro Ok Però non è un problema Perché non ci sono più Non ce ne sono più Di cosa All'ultima qua Troccaforte nemica marcata Lo facciamo al volo E poi andiamo E poi andiamo a fare le tue sfide Ti mollo questo raccogliolo Eh no non posso tenerlo Eh no non posso tenerlo torretta robot c'è qua matti mi serve una mano però c'è da solo non posso entrare per entrare una volta dentro mi arrangio arrivo dove sei a mille metri ma ci andiamo con questo l'ho detta bene ma sto arrivando distante ti vengo a prendere con il gun ti guardo le spalle attento perchè questa è la zona 3 so che i campioni di bersagli prioritari non sono facili da ottenere ma visto che mi servono per costruire il proposito ti copro le spalle ma il piano è questo praticamente una volta che io apro la cassaforte mi senti prima puoi sparare a chi cazzo vuoi poi una volta che io apro la cassaforte non spari ma mi stai solo vicino in caso mi succede qualcosa perché devo fare fuori i 32 nemici dopo che li ho fatti fuori che ho completato la sfida tutto a posto puoi sparare a chi cazzo vuoi ma ce la facciamo ad estrarre? si si tranquillo dopo questi 12 minuti ce ne sono altri 15 quindi tutto a posto ah quindi è una roba infinita? si è tutto calcolato quella estrazione è anche qua vicino più missioni fai più aumenta il tempo? no no dopo questo tempo qua ti danno altri 15 minuti e poi è finita del tutto ok quindi io adesso cosa devo fare? mi pari il culo per entrare dentro ok una volta che siamo dentro si continua a sparare quando io ti dico smetti di sparare non spari più ok coincide al punto in cui io apro la cassaforte tu dimmi smetti di sparare esatto facciamo prima esatto ma ti dico smetti di sparare sparo soltanto io è deciso no potrei farlo merda qui miller c'è appena stata una piccola esposione all'armadietto delle modi per munizioni sono appena peccato ecco a terra riesci e quindi? entra e spara a qualunque cosa si muove i autori animi? no no ah volo il volo carico chiudo la porta dimmi cosa devo fare posso sparare ancora? si 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 vai vai ok cambio caricatore sali con me sali con me arrivo vai ok ok prendete quello che state cercando che cazzo ho fatto? ok a posto adesso non sparo nessuno non sparo nessuno non sparare più ok mi metto qua ciao esatto ora sparo io vai tutti qua cioè se cado a terra mi copri ovviamente ok ma posso sparare se cadi per terra? si si se devo morire si cazzo lo scotch non fa per me signore si guarda che non ci sono nemici stanno arrivando è meglio perché me ne mancano un po' vabbè ne mancano tra in realtà preferisco il whisky è una sinfonia squisitamente complessa invece la vostra aiutami ad andarmene dall'ursicstan e ti comprerò una valanga 20 qua mi sa dovrò fare dovrò farne altre di roccaforti ma non ce ne sono altre non hai idea di che sollievo sia che porta a parte puoi sparare quanto cazzo vuoi da un lato sono circondato dai vecchi indieti a piedi e dall'altro mi ritrovo pazzi scatenati come Zakajet in ogni caso sono tutti i moti dal primo all'ultimo lui invece continuare a saccheggiare come condurre le truppe cosa devi fare te? allora vabbiamo a stare ammazzare gente a caso due tre zombie col fucile livello uno adesso se ne trovo ecco un discepolo qui d'opso ci sono arrivo 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 rilascio one shot roger tenete duro sta arrivando guarda all'istante cambio specialità casual è fatto guarda corazza qui si devo acquistare l'arma principale da una cassa misteriosa andiamo eh ma io non vorrei perdere queste e poi la butti giù non è che la viene bassa la acquisti e la butti eh ma poi devo anche ammazzare 50 zombie dai andiamo quale che non vuoi perdere guarda che poi il tuo cecchino te lo puoi guardare si si il cecchino il cecchino lo lascio eh dobbiamo trovare una cassa misteriosa ci sono segnali sulla mappa a bordo squadra d'assalto sotto con il fuoco quali sono? eh bu eh possiamo farlo dopo dai ti guardo le spalle ci sono queste casse misteriose sono queste casse misteriose qui abbiamo più normalmente sono segnate sulla mappa scusa a te non l'hai già fatto questa eh si ma le sono segnate sulla mappa ah e quindi? cosa facciamo a trovarla? ah? un attimo dove ti copro io intanto se riesci a coprirmi la cerco sulla mappa eh vai vai ti copro io tra da qui sta tipo ce n'è una in movimento in questa zona qua ah non fai devo mappare gli zombie ah devo mozzare 50 zombie ci conviene a farlo dopo ci conviene a uscire si forse si dai andiamo verso l'estrazione che tanto è qua no ma ci sarebbe un'estrazione ancora attiva è qua l'estrazione attiva è distantissimo è qua oppure ce n'è una dietro oppure là eh niente dobbiamo andare qua niente cerchiamo un veicolo no? si cosa che troviamo un veicolo guarda dove spari ti guardo le spalle è il nostro veicolo mhm guido io guido io anche qua c'è sempre un'estrazione no? di solito c'è anche qua un'estrazione però non ce l'hanno messo adesso no? mi guardo si è sotto o sopra le mafelle? no è sopra è sopra arrivo movimento in quest'anno stanno giocando a GTA e praticamente hai scaricato GTRP? no mi sa che non ce la facciamo si tranquilli guarda che dopo questo abbiamo altri quindici minuti guarda che dopo questo abbiamo altri quindici minuti ah abbiamo altri quindici minuti? si 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 e allora possiamo fare la missione ma poi arriva il gas cassa misteriosa l'hai trovata? eh no sto guardando si si è qua andiamo però poi voliamo voliamo di là gli zombie ammazzi quelli che vengono quando facciamo l'estrazione ok? prima devo ammazzarne 50 eh aspettiamo vai vai pigliatela al volo cambio caricatore ti copro che non è ancora frappare è ancora è ancora ma che copertura che mi ha dato? si ma vuole creare uno di merda che mi ha dato oddio rimarga ci mette tanto a ricaricare ma distrugge andiamo all'estrazione ti copro le spalle ho un colpo a tira eh one shot ok l'estrazione sono tutti i tuoi gli zombie a noi non gli spargo fatti questi magari sparai magari sparai la vuoi potenziare un attimo? no cioè mi da più colpi e se la potenzio? no fa solo più male one shot eh ma a volte ci vogliono due colpi no no fidati eh aranciore allora i nemici sono tutti tuoi ho chiamato l'elicottero io ammazzo solo quelli che mi stanno veramente per ammazzare a me solo perchè l'avete chiesto gentilmente solo perchè l'avete chiesto gentilmente ora li sto attirando a me quelli dietro di me sono tutti tuoi fatti iniziato a fare rumore per essere la serpensa che inizia squadra se non volete che le piogge acide si spiugano sul posto trovate una zona per l'estrazione con in arrivo al punto di estrazione posso andare quando vuoi chiesto appena arriva l'elipote adesso io che la pistolina arancione mi resta arancione si trovi un'arma che dico il colore lì ti rimane sempre cazzo usa questa ma poi nelle fasi avanzate pochi troppi pochi colpi però ci stava c'è 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 un bel po' di punti 17 minchia 17 minchia io 16 16 986 per 2 minchia 1 ora e 38 no è sballato non è 1 ora e 38 da sempre di più non lo so non stiamo da 1 ora e 38 siamo meno di 1 siamo 1 ora e qualcosa non siamo 1 ora e 38 è da sempre sballato l'orario non so perché questo è un misterio è un misterio però se tu adesso vedi tipo il bottle ti sale un bot ti sale di due livelli due livelli ma io come faccio a personalizzare il io solo rocket e spaventa passari eh come operatori perchè? beh non lo so se tipo vado su personalizza strano vabbè non mi interessa per pick up anna ce l'ho quasi maxato ah perchè devo reclutare un operatore ok ok aspetta un attimo che mi rifaccio l'attrezzatura l'arma mi resta un nastro 200 colpi così quando mi metto poca punch mi diventano 400 colpi secondo quanto fanno male 400 colpi allora io devo fare la stessa cosa di prima tu che cosa c'hai da fare? lo stico com'è che vedo? sotto in basso c'è scritto atto 1 e ti dice cosa devi fare atto 1? e atto 1 premi premi di nuovo e ti dice la missione che hai attiva e anche le altre e queste le ho fatte distruggi il covaglio ai mercenari prendi il tesserino locaforte lasciato dal convoglio capito? si e poi 50 zombie usando la mod munizioni gelamorti la do io la giro usando il protettimento da campo mina energia ma quale c'hai attiva però? non lo so beh devi cliccare su quella che c'hai attiva missioni livello 2 eh ma tu ce n'hai una attiva no? rosso distruggi il convoglio ai mercenari oh acquista un'arma ok distruggi il convoglio il convoglio mercenario ok bisogna trovare il convoglio vabbè dai un attimo che io cosa cazzo devo fare io che arma è in pronto? boh la quale 35 zombie usando la mod no fatevi sotto questa qua guardia ok e la battaglia? guardia frenetica ok io devo fare una sfida di merda ok io parto con la revolver e poi posso prendere tipo scorta l'attrezzo da ettere non comune cosa mi serve? cosa vuol dire ettere non comune? ah ce l'ho io la gelamorti ah ce l'hai? ok allora è a posto perché me la porto eh devi fare la sfida del gelamorti si eh si penso dopo mi chieda la gelamorti allora fallo ok allora startiamo let's go quindi facciamo subito un paio di contrattini subito così facciamo il pack a punch minchia io quando gli metto il pack a punch a sta cosa gli mettono 400 colpi sai il male che fai con 400 colpi 400 colpi non finisci più di sparare che inizia a sparare oggi finisci domani praticamente hai messo anche il tarzo? si bravo sperando che stia con noi vabbè il convoglio il convoglio lo trovi a caso no il convoglio lo troviamo sull'autostrada dobbiamo girare sull'autostrada come dei coglioni ci ho messo un bot ci ho messo un bot a fare quella missione ma quante ne sai? eh non ne ne fai io sono al 62% ne ho dato uno a fare il convoglio non dite un culo io poi penso che dovrai fare tipo al lato 3 perché al lato 3 devi fargli devi andare ad Activision cazzo e sfruttare il cazzo a tutti i produttori no no ah bene dove siamo noi non c'è mezzo contratto beh ma il volo quello non perdere tempo con gli zombini facciamo subito i contratti dai signorario sì perché ci sarebbero subito 5.000 eh ci pacca quanti amo insomma me ne servono 7.000 perché? eh devo prendere anche la tessera per la roccaforte di mercenari è incredibile la fisica che riguarda non c'è tempo barrera chiamiamo le spore e basta copro le spalle con i fici le spore con gli insatuoni per invertirne l'evoluzione invertirne l'evoluzione non posso pacca panciarmi eh no ti servono ti servono 5.000 per pacca panciarti tutto qui immaginavo che avrete attirato l'attenzione nemici non morti in arrivo ma io non posso pacca panciarmi sta merda qua che cosa c'è ma c'è la pistolina ma quella mi sa che è di mv è di mv2 non è di mv3 ma hai raccolto qualcosa devi usarlo sulle spore allora ok sì perché ho lasciato qua qualcosa di mio e non so eh ma ormai quello che c'hai usalo sulle spore posso c'ha pensato di me che avete garantito quelli spore non avevano scanto se mi compro già un tesserino roccaforte mi ha rotto il cazzo la porco dio per te vedo cosa c'è qua scoppio di rompenza andiamo roccaforte andiamo a fare la roccaforte qua praticamente tu spari come prima spari però poi smetti di sparare questa pistolina sto arrivando eh tutto da show lì vicino aspettatevi più attività nemica nell'area no dimmi arrivo qui dove sei sopra? sotto c'era un coglione con lo scudo oh veloce che questo sto salendo sto coglione no ma li puoi uccidere li puoi uccidere no no che non ti apre la cassaforte in realtà la può anche aprire l'importante è che non guarda che lascia uccidere a me dopo che la stiamo aprendo dove cazzo è la cassaforte? usp stinger del gioco nuovo? mi sa che di quello vecchio però se non c'è niente è peggio dove cazzo è la cassaforte? è questa? la pistoletta? e boh no WAPI stinger trovate la cassaforte prima che arrivino i rinforzi qui c'è una maschera anti gas l'MX9 è del gioco vecchio giusto non mi ricordo penso di sì no una del gioco nuovo l'MX58 all'sv boh sto mitraglione qua qui DOBS sembra che te ne sbaglia un unpro round sembra che Fletcher abbia migliorato i tempi di risposta ecco che arrivano lascia no 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 lascia dimmi il fare a me eh dimmelo vai tutti i tuoi fucile da battaglia croc and squall larkman 762 porta questo mi sa che non me li fa non me li fa uccidere il nostro amico diglielo e io ho scritto ci sono altre scorte come queste in giro occupatevene l'apro la cassaforte si si pigliati quella che ti serve giugotto a tre piastre apre le porte della fortezza legacy si ma la fortezza lega sia nella zona 3 però qui c'è un contratto c'è un certo contrattino ricambio caricatore poi ci pacca punchiamo poi dopo il pacca punch andiamo a fare cerchiamo l'altro sfido qua c'è il carambit se lo vuoi sbloccare cos'è? c'è il carambit se lo vuoi sbloccare e cos'è? è quell'arma da 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 coltello il coltello del muovo con la prossima la facciamo in due perchè tanto il terzo ci rompe solo i coi io ho perso cosa? ah cazzo c'è il bluetooth arrivo è una merda che abbiano messo le armi vecchie e le armi nuove eh sì dovevo mettere quelle vecchie e basta cioè quelle nuove e stop non quelle vecchie anche secondo me però sto ricaricando ora non di un'altra opinione sti giovanotti comunque ho messo il caricatore da 300 però non me ne da più di 200 dove è il Mimic? io non vorrei sembrare una fortuna però c'è bisogno di una mano? l'ho fatto bravo devo ricaricare ok capra le spalle go to the puck punch il dg 58 di creare il gioco è? boh è di questo qua c'è? si però c'ha fatta un'introdione? mi sa di si ci chiama dg 58 al... ok eh come è fatto? eh guardalo girati questo può mi sembra di si però c'è... si si è di questo gioco qua però ce n'è una simile anche su quello vecchio quindi non lo so eh di fatti sto sparando ma non aumenta no vabbè quello tra un po' aumenta perché comunque anche le armi vecchie le puoi livellare qua diciamo che non interessano con le vecchie manca a me ha comprato 80 euro di gioco porco dio e c'è gente che ci gioca con le armi vecchie si? c'è l'osi 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 gioca con le armi vecchie perchè? eh dice che gli piace di più che c'ha quel... il cecchino vecchio gli piace di più ha detto mica hai comprato 80 euro di gioco 100 euro di gioco lui ha preso il battle post ma non il battle post normale quello da 30 euro quel coso black cell ha preso nel gioco l'ha pagato 130 euro di giochi con le armi vecchie nooo non esiste no ma gioca con le armi nuove cazzo impadronitevi di quel carico gentile da parte loro offrirci uno sconto e se no che cazzo l'hai presa a fare le armi? esatto per quel mattino i due mani troppo indietro non arrivo con caldo perchè guarda su zombie il tempo è tirante posso potenziare ok c'è un modo per salire in fretta su... beh devi fare un po' di parkour per salire dove sono io adesso adesso salgo a piedi roccaforte nemica marcata stazione di acquisto qui ma io ce l'ho un tesserino no? quanti soldi hai matti? me lo compri un tesserino? ma volevo pack a puncharmi beh ma ce li hai comunque i soldi pack a punch costa 5.000 c'è 7.600 cambio caricatore ti guardo le spalle ah devi fare un po' di... attrezzatura tesserino alla tua forte si quello la e droppamelo e vado vado arriva un elicottero dei mercenari occhio vai anzi ti aspetta andiamo insieme non sa mai no no devi buttarti devi buttarti poca pancia sopra buttati guardati guarda qua no guardami guardami qua buttati e tira il paracaduta e qua ci sono le scale da salire qua sali le scale e sei arrivato e c'è il poca pancia vai vai via dimmi che non sono il dio di zombie no? dimmi che non sono il maestro di zombie lo zombie maester ok andiamo di là dopo sperando che quel coglione non mi uccida i nemici e poi dopo che abbiamo fatto la roccaforte dobbiamo andare dobbiamo prendere un veicolo e girare per la mappa finchè non troviamo il convegno è la missione più testa di cazzo che c'è di quelle che ho fatto finora perlomeno posso sparare? si si ammazzali ammazzali per favore c'è quello con lo scudo c'è quello con lo scudo attento è morto è morto è morto è stronz quello con lo scudo cazzo è sta roba qua il nostro amico c'ha un potere particolare cazzo è rotto cazzo è rotto diciamo quando farmi Sto ricaricando E li sto lasciando Sì 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 Mi mancano un po' E sono forti cazzo 36 Basta è finito Invece la vodka è una nota piatta Sparata Devo ricaricare Sai che ti dico Aiutami Niente non devo fare un'altra 36 Me ne mancano un po' 14 Non hai idea di che sollievo sia avere un professionista in questa schifosa operazione Da un lato sono circondato da imbecilli e leccapiedi E dall'altro mi ritrovo pazzi scatenati Attenzione Terminus sta lanciando degli estrattori di Ethereum nella vostra zona Roccaforte nemica marcata Se l'Etherium esce dalla zona di esclusione Questo gattino sarà solo Ne andiamo all'ultimo così cerchiamo anche Il tuo convoglio se lo troviamo ci fermiamo Se lo troviamo lo abbattiamo La missione è più stronza Bisogna girare per la map Sì Zombie è bello per chillare Sì Sai come ci prendevamo male? Si chiedevamo molti Per tranquillità cosa devo fare? nulla al contratto con triangolo? si fai il cambio veicolo dai dai andiamo no vieni qua che spara tutto ciò che si muove e che io sto rianimando il veicolo ok dai andiamo prima di non urire peggio di come siamo come siamo e tra l'altro non butto giù un cazzo è perchè siamo nella zona 2 qua c'è il balun tu prendi questa cosa qua scendi 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 prendi questa cosa qua ti tira in alto e vai verso la missione che ho pingato non è un balun in realtà è una cosa che ti tira su io dico balun però non so prima come cazzo si chiama eh però noi siamo qua ma non abbiamo la tessera qui c'è un camion stazione di acquisto qui vado io vado io ah intanto c'è la macchina qua ah è qua ma tu sei ancora in posto sono su un caldo si allora posso ti raggiungo in macchina e poi andiamo hopple 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 mh sequenza di lancio è quasi completa colpita iora presto Vieni, saliamo. Ti guardo le spalle! Trampo tardi, in accensione. Non sono stata abbastanza chiara? Dovevamo contenerlo, non fare un casino. Almeno non c'è il tipo in mezzo ai coglioni. No, non è qua. Vabbè, parcheggio qua. Ricordiamoci, dobbiamo parcheggiare. Vado? Sì, sì. Vado a poi uccidere chi cazzo vuoi. L'importante è dopo che prendiamo... Se ce la fai, lasciali a me adesso. Sì, tutti i tuoi. Cazzo, arrivano, trinceratevi. Sì, arriva l'Aster. L'Akma, Bash B, che cos'è? E' il suicidio. Manuogo? Sì, sì, sì. Mi manca bello forte. Me ne mancano dieci, Big Brew. Con quelli liti che sono belli forti, cazzo. Me ne mancano quattro. Palle. Me ne mancano sempre quattro. E niente. Niente, me ne mancano quattro. Marco, una maschera antigas. Me ne mancano quattro. Tra l'altro, a Tesserino, a Ligas, sì. Eh, tieni, poi... Marco, una maschera antigas. Cerco un'altra roccaforte. Ti guardo le spalle! Roccaforte nemica marcata. Però prima ci serve un cazzo di... Ricarico! Shock. Stazione di acquisto, qui. Copro le spalle. Ricordate la pena sta mappa, perché sarà la mappa di... Di copro le spalle. Sì, cì? No. Sì. No. Cì, sì, no, lei. No. Munizioni al massimo. Vatti, ma sei sceso? Sì. Eh, ma noi stiamo andando. Vai, 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 vai. Ma lei è sceso. Sì. Sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma fra il convoglio è qua, il convoglio è qua, sei un deficiente, il convoglio è qua. Ma stai scherzando? No, il convoglio è qua. Ce l'ho di fronte, ce l'ho di fronte, muoviti. E niente, il tipo l'ha giocato, l'ha distrutto il convoglio. Ce n'è una partita, però. Non ci dobbiamo separare. E te l'ho detto che dovevamo girare. Va bene. Ma se tipo io faccio l'estrazione ti arrangi? E poi tu cosa fai, scusa? Eh, io sto, sto ancora. Vabbè, finiamola qua, però, dai. Io voglio finire con la missione. se io estrargo non posso estrarre io il kirko eh si però dai finiamo la missione no no vado ok tardi cazzo se vuoi estrarre devo almeno provo ad estrarre cambio caricatore non vado Il convoyero è uguale Non lo so Non lo so Gli cattolini? Non lo so 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 Unemico Onkirk Ja Stacca No ma ne ne Prima dei progetti Vabbè 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 Specialità casuale Vabbè 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 Sì Magari preferisci la vodka Per poco Corretta schierata Ma Bene E Sì, non so, non so. il nostro mattia ci ha abbandonato il nostro canale risparano sto ricaricando risparano 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 Grazie ragazzi per esserci state Alla prossima